Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi parliamo della co-op di Le Mans Ultimate Features uscita pochi giorni fa con l'ultima patch arrivata da Studio 397 che ci ha reso veramente abbastanza felici rispetto a quelle che sono le features presentate. Concentriamoci su questa modalità perché come avrete notato quando entrate nel menu co-op vi vengono presentati degli eventi ufficiali che sono preselezionati, sono già scelti da Studio 397 e in questo caso abbiamo il Fuji con 2 ore di gara, 3 ore per spa, 6 ore di imola. Come funziona questa modalità? L'avrete capito, basta accederci insieme ai vostri amici, fate la registrazione, invitate i vostri amici, fate la vostra squadra e potete correre. Quindi questa funzionalità come funziona? Uno dei due inizia a fare la gara, quando vuole terminare il suo stint, quando non ha più tempo, quello che è, si ferma in box, fa un salvataggio e poi il compagno, un amico può riprendere la gara subito successivamente e continuare. E via dicendo, ognuno può fare il proprio stint. Ora, cosa mancherebbe e che non è stato pensato in questo momento, non è stato implementato, la possibilità di poter personalizzare i propri eventi. Cioè nel senso che magari io questi circuiti non mi interessano o magari voglio fare una 24 ore proprio alle manze con il mio amico. Come posso fare per ovviare? Allora, è stato già trovato il modo per poter ovviare a questa problematica. Come era successo per la realtà virtuale, bastava aggiungere un codice VR sulla linea di comando di Steam, è stato trovato subito una soluzione. E vi faccio vedere come in realtà si va a sfruttare un'altra feature che è stata inserita in questo aggiornamento ed è quello del salvataggio del single player nel weekend di gara. Molto semplicemente, anche qui ragazzi, basta che selezionate il vostro evento, la vostra combo insieme ai vostri amici e il primo che inizia, quando arriva ibox, fa un salvataggio semplicissimo della gara per poi fare un semplice trasferimento di file. Ora, vi faccio vedere come è veramente semplicissimo. Ho già preparato tutto ovviamente e vi faccio vedere. Allora, basta andare, se andate su Steam, andate su Demands Ultimate, gestisci, sfoglia file locali e andate su User Data, Saves e Race Weekend Saves. Come vedete qui dentro c'è un file che adesso ve lo faccio vedere, è tutta sta stringa qua che non si capisce nulla. Non vi preoccupate, non la dovete interpretare. E basta prendere questo file e mandarlo al vostro amico. Ok, quindi io sono il primo che ho fatto il primo stint, prendo sto file, glielo mando e lui lo va ad incollare esattamente nella cartella. Le Mans Ultimate, User Data, Save, quindi Race Weekend Saves. Se non ha fatto mai un salvataggio, basterà creare sotto User Data la cartella Saves con la S maiuscola e una sottocartella Race Weekend Saves, sempre con le maiuscole, con le iniziali di ogni parola, e copiare qui dentro il file che gli avrete mandato o viceversa ve lo manda lui. Sarà per la prima volta creare la cartella perché lo fa, perché basterà una volta sola. A questo punto, quando il vostro amico o voi avrete finito lo stint e gli avrete mandato il file, e lui l'avrà caricato o l'avete caricato voi sul vostro computer, basterà andare su Weekend di gara e vi ritroverete, come vedete, prova, che è il file che avevo messo io. Basterà fare continuo evento per ritrovarsi nelle condizioni di istantanea scattata, diciamo, dalle Mans Ultimate del vostro amico, con tutte le impostazioni del vostro amico. Ora, siccome non è una cosa che è concepita da Studio 397, giustamente gli sviluppatori hanno pensato di automatizzare il tutto, cioè quello che stiamo facendo noi è prendere un file di salvataggio e passarlo all'amico, con alcune conseguenze non gravi, non drastiche, ad esempio ritrovarsi con delle impostazioni modificate in base a quelle che sono quelle del proprio amico, quindi vi potreste ritrovare con il livello di abilità della IA, magari qualche differenza per quanto riguarda il posizionamento del cruscotto e altre, diciamo, impostazioni di questo genere qua, e soprattutto correrete con il nome del vostro amico, o viceversa se siete voi che passate il vostro file. Quindi io vi consiglio di salvare comunque le impostazioni. Ovviamente una cosa da tenere a mente, ragazzi, è che chi finisce la gara, attenzione, perché il file viene cancellato, quindi avete finito la gara, il computer, le mans ultimate in cui state correndo, cancellerà il file, perché ovviamente non serve tenerlo, è finita la gara, che ti tengo un file che non serve a nulla. Quindi, riepilegando rapidamente, se volete fare una cooperativa con i vostri amici, con il vostro evento personalizzato, basta iniziare il vostro evento con quello che sono le vostre scelte, fare un salvataggio passando dai box, prendere il file, come vi ho fatto vedere sotto la cartella, le mans ultimate, user data, save, race, weekend, saves, prendere quel file e mandarlo direttamente al vostro amico, e lui lo dovrà posizionare all'interno della stessa cartella. Punto. Ricordatevi che le vostre impostazioni potrebbero leggermente cambiare, e che l'ultimo che terminerà la gara, il proprio pc, il proprio le mans ultimate, eliminerà il file. E tutto qui, ragazzi, sfruttando appunto questa features del salvataggio, che si può in qualche modo fare una coop, diciamo, personalizzata. Ragazzi, volevo condividere con voi questa possibilità di fare coop senza essere tributari delle scelte di Studio 397, quindi se questo piccolo tutorial vi è piaciuto, vi prego di lasciare un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!